L'Abruzzo dovrà partecipare per vincere, non sono contemplati errori o fallimenti. L'Expo 2015 rappresenta la concreta possibilità di dare ai prodotti abruzzesi quei canali di vendita e mercato internazionale tanto agognati dall'inizio della crisi. Noi non siamo ancora una destinazione, tutto il lavoro che stiamo facendo in questi giorni, dai blogger agli instagrammer a coloro i quali vengono gli operatori turistici, per esempio scandinavi che sono in questi giorni qui in Abruzzo, serve per far conoscere la nostra regione all'Expo. Quindi è un cammino da oggi fino ad arrivare alla presenza a Milano ma che poi non finisce con la presenza a Milano perché ci sarà la partita più importante dall'Expo ai territori per far venire i turisti e i operatori del mondo che stanno lì. C'è da pensare a come dare visibilità alle aziende del territorio in un quadro dove a competere saranno migliaia di altri espositori per un bacino di utenza enorme. Avremo una settimana del protagonismo, cioè tutto il mondo per una settimana si concentrerà sull'Abruzzo. Dopo noi creeremo eventi collaterali sia a Milano per cercare di incrociare le attenzioni di coloro che vanno e che una volta finito l'Expo possono continuare a guardarci con attenzione e poi la grande partita di portarli da lì in Abruzzo. Infine un occhio al budget, come spendere, dove trovarli e come farli fruttare per l'indotto abruzzese. Qui si tratta di investire, l'Abruzzo deve investire qualche milione di euro, lo possiamo fare e poi ci saranno gli investimenti dei privati. Meglio non andare che fallire perché lì c'è tutto il mondo che ti guarda.